Ecco, come diceva giustamente Andrea, Roberto, questa foto è, se noi dovessimo immaginare, la foto dell'amicizia, no? In un libro sull'amicizia metteremo questa foto in copertina. L'Elius. Raccontaci l'amicizia, vai alla lavagna, vai a fare il professore. C'ho poco da scrivere. Allora, l'amicizia è il sentimento più alto che possa esistere al mondo. Lo dicono tutti gli intellettuali greci e latini. L'amicizia in greco si chiama, fammelo scrivere una volta tanto in greco, si dice filia. Filia. Filia, da cui affettività, affettuosità, se vuoi, anche fedeltà come termini vengono fuori. La filia è un'amicizia disinteressata, cioè non è che tu ti accoppi a qualcuno perché hai qualcosa da guadagnare. Non c'è utilità nella filia greca. E' semplicemente perché è spiritualmente affine a te, è il completamento di te, è qualche cosa che non potevi non incontrare nella vita. Ed è molto di più addirittura dell'eros, perché l'eros è passione e ha alti, bassi, conclusioni e ritorni. La filia invece è naturale, cioè la filia nasce e non può morire. Puoi avere nuovi amici, ma i veri grandi amici te li tieni sempre. Questo nel concetto greco, il concetto latino è diverso, per i latini la filia, filia, che si chiama A, ovviamente, l'amico si chiama amicus, la radice di am è amore, lo sai. Per l'utilità serve, cioè il vantaggio è importante, cioè per gli amici latini, tra i latini c'era sempre qualcuno che si interessava. Però arriva fuori Cicerone, che voi conoscete tutti, che scrive Lelius, di amicizia, Lelius era il suocero del suo tutore e Lelius pone tre regole dell'amicizia, due le abbiamo già dette. Una fondamentale è che l'amicizia sia assolutamente, non è che hai bisogno di qualcuno e allora te lo fai amico, deve essere disinteressata del tutto e questo è il centro dell'amicizia. La seconda regola, la trovo molto bella, è che non c'entrano il ceto, il potere, i soldi, il denaro, la professione, se si è uguali, se si è diversi. È una scintilla che nasce da un'uguaglianza che c'hai qui dentro, non è assolutamente vero, il povero, il ricco, chi se ne frega, assolutamente, non è questo il senso. L'amico è il te stesso dall'altra parte e questa è la fotografia che ce la dimostra, cioè questi due sono la stessa persona che si uniscono in un abbraccio. Sono lo specchio l'uno dell'altro. Grazie Roberto, torna a posto.